Voglio salutare subito la senatrice Lezzi che ci ha venuto a trovare, grazie, con noi c'è Daria Paoletti, facciamo subito una battuta su quel che sta succedendo a Venezia, peraltro una emergenza grande che arriva durante la legge di bilancio, che arriva durante il problema dell'ex Silva, insomma è un momento particolarmente complicato. Che si deve comunque affrontare immediatamente, il Presidente Conto ha detto che subito verrà dichiarato lo stato di emergenza, verranno stanziati dei fondi per Venezia e questo deve essere fatto assolutamente in fretta per aiutare anche tutti i commercianti, le piccole imprese, i cittadini che si sono ritrovati per l'ennesima volta in questa tragedia che poi in questi giorni è stata più grave delle altre volte e fa veramente piangere vedere quello che è un patrimonio mondiale in balia dell'acqua così, è un problema ancora non risolto. Io tra ieri e l'altro ieri ho ascoltato diversi commentatori, osservatori, a me non va di fare la solita polemica politica perché poi alla fine serve a ben poco, certo io ieri sentivo dire addirittura che sarebbe colpa del Movimento 5 Stelle perché è tutto bloccato perché c'è il Movimento 5 Stelle, perché è colpa dei magistrati che si sono messi di attraverso, questa non fa parte neanche più della polemica politica ma fa parte dell'incapacità di dare risposte e di prendersi le proprie responsabilità perché prendersela con la magistratura perché avrebbe bloccato tutto, allora facciamo così, rassegniamoci al fatto che le opere pubbliche debbano costarci il 40% in più delle nostre tasse, dei cittadini, tutti quanti quelli che vanno a lavorare perché ci deve essere la rubria dei politici che deve essere lasciata in pace, lasciamoli rubare, lasciamoli fare perché altrimenti questi si arrabbiano e se la prendono poi col 5 Stelle, cioè è veramente folle anziché pensare a risolvere e abbiamo un'opera che tra l'altro non sapremo neanche se funzionerà, neanche se sarà efficace e che probabilmente costerà la bellezza di 100 milioni l'anno di manutenzione, che se si dovessero spendere per risolvere finalmente il problema a Venezia, io da contribuente semplice cittadina sarei ben disposto a farlo, soltanto che purtroppo non si ha ancora certezza dell'efficacia e se la vengono a prendere con noi, dove sono quasi 20 anni che stiamo lì intorno a questo mose, allora cerchiamo di dare risposte e superiamo questi dibattiti sterili che poi alla fine soprattutto ai veneziani non servono, servono invece le azioni e serve guardare un po' al futuro. Allora un'emergenza questa della quale continueremo a parlare più tardi, peraltro quando uscirà Presidente Conte insomma vi faremo sentire le decisioni, le determinazioni che sono state adottate in questa riunione, sta di fatto che arriva dicevamo sull'emergenza, eccolo qui, sta uscendo Conte, sentiamo proprio un momento in diretta Presidente del Consiglio. La data così in via di primo giro di consultazioni con tutte le autorità che oggi erano presenti, abbiamo individuato la data del 26, 26 novembre, quindi ragionalmente se verrà confermata sarà la data di questo comitatone, lo diciamo a tutti i cittadini, questo organo da me convocato servirà appunto per riunire un po' e come dire per una governanza di tutti i problemi infrastrutturali anche di Venezia, quindi sarà affrontato il problema delle grandi navi, il problema del Mose, il problema anche di un maggiore coordinamento tra le autorità competenti. In questo momento tra l'altro, ormai l'abbiamo già annunciato, sta arrivando il commissario straordinario del Mose, completeremo ancora la nomina, dobbiamo integrare la nomina del Consorzio Venezia Nuova e poi ancora c'è il proprietario competente sulle acque dove stiamo facendo una valutazione. Dobbiamo un po' coordinare meglio il lavoro tra questi differenti organi, ovviamente verranno anche le autorità, i rappresentanti degli enti locali, della regione e il sindaco e troveremo quindi la soluzione per questi problemi. La designazione è già c'è, stiamo formalizzando, è già pronta. Quali sono state le sue impressioni dopo il sopravloco fatto ieri? Sono delle prime impressioni, voglio completarle perché adesso stiamo completando un altro giro, voglio parlare anche un po' di più con le persone che ovviamente stanno soffrendo questa situazione drammatica. Però l'impressione è che ovviamente ci sia veramente molto disagio, grande disagio. Oggi ho parlato con un edicolante, il signor Walter, che ha visto la sua edicola addirittura sprofondata nel canale della Giudecca, ha perso tutto. Insomma potete immaginare per chi svolge un'attività commerciale, vedere tutto il suo mondo crollato sott'acqua, cosa possa significare. Ma non perché sprofondasse un'attività commerciale nell'acqua, diciamolo francamente. Scusate, ovviamente i cittadini che non hanno risposto. Oggi dopo 8 mesi c'è anche un vertice di mancherano. Com'è la situazione della maggioranza? La situazione della maggioranza per quanto riguarda abbiamo così tanti impegni con gli cittadini, così tanti obiettivi. Abbiamo un piano, adesso siamo in prima manovra economica che si sta approvando al Parlamento. Se uno vuole lasciarsi distrarre dalle polemiche faccia pure. Non è il mio caso. Grazie. E allora questo Presidente del Consiglio a Venezia. E allora veniamo, ha detto tanti impegni, non facciamosi distrarre dalle polemiche, dice il Presidente del Consiglio. Allora torniamo invece sull'altra emergenza, quella dell'ex silva di Taranto. Dunque, Commissione Finanza della Camera, che ha giudicato inammissibili gli emendamenti di Italia Via e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale. Allora cominciamo da qui. Ci racconta intanto quel che è successo in queste ultimissime ore, l'ultimo incontro con Conte e poi torniamo indietro e facciamo un po' la storia. Noi insieme ai colleghi tarantini abbiamo chiesto di incontrare il Presidente Conte dopo la sua vita in Taranto. Perché di Taranto si parla anche qui, ci sono stati 13 decreti per salvare questa impresa, per salvare la produzione, l'acciaieria è sacrosante, posti di lavoro giustissimo. Io ho sentito poco fa anche il dibattito che si parlava di una perdita incalcolabile e di tante altre cose che sono legittimamente importanti per il nostro Paese. Però di Taranto non si è parlato ad esempio del fatto che noi siamo stati condannati come Paese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per non aver salvaguardato la salute dei tarantini. Non si è parlato mai di altri numeri che sono stati fatti dallo studio Sentieri del Ministero della Salute, quindi non sono campati in aria, non c'è un vittimismo generalizzato di questa città che vuole piagnugolare su se stessa, ma ci sono dei dati, ci sono dei morti, ci sono purtroppo dei numeri che portano anche al 50% in più di incidenza di malattie mortali, purtroppo, soprattutto nell'età dell'infanzia. Ora, un Paese civile deve o non deve farsi carico anche di questo diritto? È chiaro che i pugliesi, io e tutti gli altri miei colleghi conosciamo più da vicino questa realtà e l'abbiamo sempre vissuta, l'abbiamo conosciuta da tempo e quindi è nostra, noi portiamo con noi in Parlamento anche quella lacerazione, l'abbiamo sempre fatto, quindi abbiamo voluto incontrare il Presidente Conte per chiedergli se avesse avuto la possibilità di toccare con mano questa lacerazione e abbiamo avuto rassicurazioni che è stato così, perché anche dalla parte degli operai è venuta una richiesta, cioè quella di non lavorare più uccidendo i propri concittadini, per cui questa divaricazione che c'è stata tra salute e lavoro deve essere necessariamente ricomposta e adesso è anche nella piena presa d'atto del Presidente del Consiglio. Quindi, senatrice, quelle ricostruzioni che abbiamo letto sui giornali di un scontro tra lei e Conte piuttosto duro in cui lei insomma tiene la confermezza e la posizione del non se ne parla di uno scudo penale? No, prima di tutto non abbiamo parlato proprio dello scudo e poi hanno detto che io sono andata via prima. Sì, è vero, dovevo prendere mezzi per andare a partecipare ai funerali della madre di Alessandro Di Battista, ma io l'ho detto, ma erano le 11 meno un quarto, eravamo lì dalle 8 e 20, non è che sono andata via esattamente così tanto tempo prima. Quindi, no, è chiaro che io sono molto ferma su alcuni principi, così come sono fermi i miei colleghi, ma non siamo soltanto noi pugliesi. Anche questa narrazione per cui io avrei capitanato tutto il gruppo del Senato, cioè a parte che fosse stato vero, onestamente ne sarei stata anche lusingata di avere tutto sto potere, sono altre 105 persone insomma, che sono pronte anche a tornare a casa per una questione che è di tutela dello Stato di diritto, perché qui noi stiamo parlando comunque di uno strumento normativo quale era resimente, insomma si chiama ormai più comunemente scudo penale, che era stato fatto ad hoc, soltanto per questi amministratori, che è palesemente incostituzionale, che noi avevamo già tolto, poi era stato reinserito su pressioni della Lega, pressioni che arrivano dopo 20 giorni dalla discussione, insomma dopo averlo già abrogato, quindi è una storia molto compresa, è strana e opaca, però sta di fatto che la questione scudo penale non inserita nel contratto, che io poco fa ho sentito qualcosa, che può mettere in confusione i cittadini che sono più lontani non dalla situazione di Taranto, ma dalla conoscenza, lo dico molto rispetto, di alcune regole del nostro Paese, ma come si può dire che uno scudo penale sia necessario per non pagare per i reati di qualcun altro? Ma per fortuna la nostra Costituzione garantisce chiunque, non si può pensare che uno possa pagare per i reati di un altro, per quanto riguarda il pregresso, tra le altre cose c'è anche un processo consolidato nelle accuse, non c'entra niente, nessun magistrato andrà mai a perseguire per quello che è successo prima, quindi è chiaro che lo scudo serviva per quello che può succedere ora, per loro, non è per quelli di prima, è per quelli di ora. Per le cose a venire. Non confondiamo. Ma lo scudo è una scusa? Guardi, è assolutamente un predesto, è una scusa, però soltanto chi ha voluto girarsi dall'altra parte è sorpreso rispetto a quanto sta succedendo. Vedete, quando venne assegnata quella gara, Di Maio usò questo termine il delitto perfetto, perché c'erano delle evidenti criticità e opacità e anche questioni di scelta politica, perché Arsenal Mittal, che avesse l'intenzione di svuotare la fabbrica e andarsene, non è che proprio ti fa cadere dalle nuvole, perché lo fa, lo ha già fatto e lo sta facendo ancora in questi giorni in Sudafrica, negli Stati Uniti, in Bosnia, l'aveva fatto già in Belgio. Alla fine è una sua politica, ma noi come è stato, ce la teniamo e scegliamo proprio quella? Va bene, è stata scelta quella. Il delitto perfetto dov'era? Che malgrado le criticità, come ci disse l'avvocatore dello Stato, non potevamo tornare indietro. Va bene, ok, però è chiaro che noi pugliesi chiedemmo, però, immunità non serve. Una parte di questa, tra l'altro, era stata oggetto di ricorso il primo di uno dei decreti fatti. Ce la interrompo, però noi oggi forse non ce l'abbiamo, ma soltanto qualche giorno fa abbiamo mandato una clip. La vogliamo vedere? Se ce l'abbiamo preparata. Emiliano Scalia da Milano, ce la fai vedere per cortesia? Eccola qui. Ecco, qualche istante, che ripercorre un po' quella che è la storia recente. Poi ricordiamo... Sì, proprio a proposito del delitto perfetto. Eccola qui, buona, guardiamola. E' molto importante che questa vicenda sia gestita in maniera responsabile da parte di tutti. Si parla di chiudere l'ILVA, cosa che nessuno ha mai pensato. Siamo risolto la crisi ILVA. Siamo andando meglio di quelli di prima. Nessun esubero, nessun licenziato a l'ILVA di Taranto. Abbiamo installato tecnologie a Taranto che riducono del 20% le emissioni nocive. Ministro, non sono mai stati installati, guardi, non sono mai stati installati. Questa è pubblicità ingannevole. Ecco Dario, questa era la clip che avevamo preparato. Sì, è terreo di Maio in quelle immagini, davvero. Forse avete sbagliato a comunicare qualcosa, perché a un certo punto sembrava che ILVA fosse risolto allegramente quasi. Allora, nel momento in cui si insedia di Maio e affronta la questione ILVA, come vi dico, non riusciamo a trovare quelle ragioni legali da poter risolvere il contratto con Arcelor e cercare di meglio. Però lui riesce a strappare la piena occupazione, cosa che con Calenda non c'era, e un piano ambientale migliore, comprese le installazioni che ancora non ci sono, però sono comprese nel piano ambientale per ridurre le emissioni. Era abbastanza no, ancora no, questo no, però in quel momento era tutto quello che si poteva fare. Cosa succede però? Trimestre dopo trimestre, Arcelor non rispetta il piano industriale. Quindi Arcelor non produce quanto avrebbe dovuto. E noi che giriamo intorno all'esimente, allora io vi dico, che sarebbe lo scudo penale, io vi chiedo, ma se una società perde 2 milioni di euro al giorno, perché sento anche dire, ma ci sono 4 miliardi di investimenti, 4 miliardi e mezzo che noi diciamo di andarsene, ma se questo riesce a produrre la metà, sta producendo la metà di quanto si era prefissato, secondo voi, osserverà quegli investimenti? Beh, dal momento che perde 2 milioni di euro al giorno, ma davvero queste persone che parlano, si aspettano che continuino a... Guardi, io non so se lei o chiunque altro possa pensare che davvero un colosso come Arcelor possa sbagliare il piano industriale. Io so che i nostri commissari avevano già detto che quello non era un piano industriale solido. Allora partiamo dall'inizio alle osservazioni che l'ho fatto alla reputazione di Arcelor, che poi se è legittimo o no, non è questione, è una sua polisi, però sta a noi. Io sto mettendo in discussione la nostra capacità di allora di valutare per bene. Se il piano industriale non tiene, forse ci sono delle altre intenzioni, ovvero quelle di arrivare a sbattere fuori 5 mila persone, a chiudere baracca e baracchini, lasciare tutto così, e prendersi i clienti. Allora, probabilmente una seria competenza, una seria responsabilità nei confronti del Paese avrebbe fatto valutare in questi termini, e non solo per uscire e dire ho risolto il problema, perché invece quando arriva Di Maglio purtroppo non ha davvero le mani legate. Ora il discorso è pensare al piano B. Esatto, quello che chiedeva... Io prima di tutto, come Paese, come cittadina italiana, non voglio che arrivi, e non che sia una multinazionale, ma chiunque questo sia, non può prendere in giro lo Stato italiano, che quest'Arcelor Mittal ha preso degli impegni ben precisi, mantenere tutti gli operai. I 5 mila sono complessivi, 1.500 li ha già messi, 1.400 li ha già messi in cassa integrazione, fuori dalle regole, perché quelli non erano previsti in cassa integrazione. E pretendo che continui la produzione e pretendo che continui anche con il piano ambientale. Poi se ha problemi con il piano industriale, se ne può parlare, perché se fosse stata leale e fosse andata al Mise e avesse detto io ho dei problemi con il piano industriale, bisogna rivedere tutto, allora ci sarebbe stata anche una forma di collaborazione. Ma non è che vai al tribunale prendendo come pretesto, ah noi qua stiamo a parlare sempre di scudo, ma vogliamo mettere che questi hanno scritto anche che non c'è un clima favorevole da parte delle istituzioni locali? Allora io mi chiedo adesso, non lo so cosa farà un giudice, chiaramente non posso né interpretare né presumere quello che potrà andare a fare, ma io come governo, come maggioranza, come posso dire al sindaco, io che tra l'altro conosco anche personalmente, che non mi sembra un livoroso, un vendicativo, un frustrato come mi hanno descritto, non è una persona normale, che facciamo? Quando va il cittadino gli dice scusi c'è una sfiammata, c'è uno sversamento, perché questo succede? E lui dice, no guarda io mi giro dall'altra parte perché Arsero si arrabbia. Se io sindaco, è vero, ho nei miei doveri quello di tutelare la salute pubblica, però in questo caso no, perché Arsero dice che c'è un clima che è sfavorevole. Cioè parliamo anche delle altre motivazioni che hanno adotto, no? Perfetto, però a questo punto siamo veramente a ridosso del cercare una soluzione. Ora mi sembra, ci sono due atteggiamenti diversi che voglio capire quanto corrispondono anche ai gruppi, perché da una parte Di Maio qualche giorno fa ha detto su questa roba il governo rischia di cadere, poi avete fatto una serie di riunioni e quella posizione, così tanto il transista di Di Maio, non sembra essere stata sposata in realtà da voi stessi, dal gruppo parlamentare che in questa fase pare a volersi affidare di più al Ministro Patonelli e dire valuta tu insieme al Presidente del Consiglio quello che dobbiamo fare, eventualmente anche se per vincere la battaglia legale del secolo, come l'ha chiamata Conte, dovessimo votare uno scudo per un periodo limitato per avere un'arma in più, possiamo ragionare e dobbiamo decidere come gruppo? No, come gruppo noi abbiamo dato piena fiducia e piena mandato al Ministro Patonelli perché è il Ministro competente in materia, è al Mise, quindi evidentemente è lui che ha il dossier in mano. Di scudo non abbiamo assolutamente parlato perché non torniamo indietro su pretesti e veramente saremmo schizofrenici se questo Parlamento che per due volte ha abrogato lo scudo, di nuovo si rimette a parlare di scudo. Cerchiamo di parlare invece del piano industriale che è quello il problema, ma quello che io con i miei colleghi pugliesi insieme al resto del gruppo parlamentare ha chiesto fortemente e finalmente cosa che non è mai successa finora è mettere sullo stesso piano identico l'occupazione e il diritto al lavoro, che è sacrosanto, ma il diritto ad una città vivibile. Io ogni volta che schiaccio un bottone faccio i miei ragionamenti, le mie riflessioni come fanno tutti i parlamentari. Io questa storia dell'esimente non l'ho votata da opposizione, non l'ho votata da Ministro, non l'ho votata da parlamentare, perché io con me porto sì l'operaio che rischia il posto di lavoro, ma io porto anche le madri che hanno perso i loro figli, che ancora devono accompagnare anziché a una ludoteca, a una festa, al parco giochi, devono portare i ragazzini a fare la chemio e io vi porto anche quelli. Assolutamente sì, certo, assolutamente sì. Allora, ultimissima domanda, perché abbiamo solamente un minuto e mezzo, un paio di minuti, siamo costretti a leggere tutto come voi politici, siamo la mattina qualche ora a leggere, stamattina da qualche parte ho letto questa frase, la senatrice Lezzi, colei che ha fatto fuggire Mittal dal nostro paese, quando legge e sente queste cose, che pensa? Io sono persino riuscita a farlo scappare anche dagli USA, dalla Francia, dal Belgio, dalla Bosnia, io ho un potere assoluto. Guardate, quando sono stata Ministro riuscivano gli stessi giornali a chiamarmi un giorno ininfluente e l'altro giorno così potente che inchiodavo tutti quelli della Lega. Per cui, insomma, guardiamo le cose come stanno. Davvero la questione, si va dal Mose e si passa a Taranto, su Ilva, sono questioni veramente annose, estremamente problematiche, che danno il senso di come il nostro paese non abbia mai affrontato in maniera strutturale i problemi. Questa è la svolta che noi possiamo dare, cioè affrontarli veramente secondo un campo d'azione più ampio e salvaguardando i diritti, soprattutto di queste creature, di questi bambini, delle loro madri e di tutte le altre persone che muoiono e anche la sicurezza sul lavoro, perché poi tra l'altro Arcelor chiede anche che la procura si faccia da parte e purtroppo la narrazione qual è? È che i magistrati sono impazziti e sono andati lì per chiudere l'alto forno, posto che non c'è nessuna richiesta di chiusura immediata, ma lì è morto qualche anno fa un ragazzo di 35 anni che è diventato una torcia umana. Quando alcuni della Lega, dei fratelli d'Italia, quando succede un fatto di cronaca, gridano al giustizialismo, basta in galera si butta via la chiave. Allora questo ragazzo, i genitori, i bambini piccoli, i figli piccoli di questo ragazzo, a chi chiedono giustizia se noi dobbiamo far tacere i magistrati? Settrice Alessi, abbiamo finito il tempo, intanto grazie se sei stata con noi stamattina. Abbiamo anche chiarito un po' le vicende, anche delle ultime ore, insomma, ci ha raccontato. Allora vedremo quello che sarà ovviamente lo sviluppo della vicenda, senatrice, grazie a Dario, grazie anche a te. Noi ripartiamo tra pochissimo con l'ultima parte di Start, torneremo a Venezia e saremo in studio con Gian Antonio Stella, editorialista del Corsera, con Sergio Rizzo, vice-direttore di Repubblica e con noi ci sarà anche Vittorio Sgarbi. Ci vediamo tra pochi minuti.